Musica Bella a tutti ragazzi, sono da Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Transport Fever Allora ragazzi, proseguiamo nella nostra serie Io sono andato un po' avanti off camera Perché ho sistemato il discorso del treno Qua, vi ricordate che avevo fatto questa sorta di bretella Praticamente per poter far passare due treni Avevo avuto qualche problema con i sensi unici Perché non sapevo ancora come metterli Non avendo mai affrontato il gioco Ci ho smanettato un attimo Intanto stiamo sbloccando nuovi treni, nuove cose Ci ho smanettato un attimo E praticamente ho messo un semaforo qua Che mi dà il senso unico in giù E un semaforo qua che mi dà il senso unico dal lato opposto Così che praticamente un treno vada da qua E mi faccia questa strada qua Andando in giù Mentre quando torna su Come sta facendo adesso lui Passerà, ve lo faccio vedere a velocità veloce Passerà dalla bretella che avevamo costruito l'altra volta Ovvero questa qua Adesso vediamo un attimo quando arriva Dunque sta arrivando Dovrebbe girare appunto sulla destra E quindi prendere questo scambio qua Vediamo un attimo Esattamente Vedete che invece questo treno arriva Dall'altra parte Questo mi ha permesso di mettere per l'appunto Due treni contemporaneamente Così da poter far Diciamo trasportare Molto più petrolio Visto che adesso al momento E' la Diciamo così la risorsa Che ci fa guadagnare di più Allora qua Ho fatto anche altre modifiche Per quanto riguarda il trasporto Dei pullman Perché l'area commerciale Sta andando molto bene Infatti se vediamo da qua L'area commerciale Ha 13 persone 12 persone Quindi ho messo due pullman E mi sa che ce ne vorrà anche un terzo Per questa tratta qua Due pullman di quelli nuovi Che avevamo sbloccato E anche tutti gli altri mezzi Li ho diciamo tutti Upgradati Per poter dare Per l'appunto Un servizio migliore Poi ho sbloccato gli aerei Finalmente Abbiamo quindi La possibilità di mettere L'aeroporto Per cui gran bella cosa Perché potremmo unire Diciamo le città più lontane Come magari Cistelli Con Sirrini Sembrano città sarde O Calazzo E non facciamo battute Con Chiusanico Ad esempio Che comunque sono città Particolarmente lontane Io effettivamente Vorrei provare a fare questo Abbiamo 5 milioni e 8 Problema che l'aeroporto Mi costa 3 milioni No beh in realtà Dipende sempre da dove lo metto L'aeroporto Però vediamo un attimino Qua La zona residenziale In realtà è qua Quindi Se io magari Lo mettessi Di qua Potrei coprire In realtà Poca zona Mi copre l'aeroporto Speriamo Mi coprisse un po' di più Se no Devo far arrivare Una strada di qua Che è anche Fattibile No tanto No aspetta Allora Qua era Così Devo demolire una casa Vabbè La posso anche demolire Una casa Che tanto serve a poco E gli potrei collegare Magari qua L'aeroporto In modo da Ecco così È decisamente meglio Vado a servire Diciamo Una zona Molto molto più ampia E peraltro Mi costa anche poco Perché costa 875k Proviamo a metterlo Ragazzi Aspettate che Ok 869 Ancora meno Ottima Ottima cosa E magari Gli vado anche A collegare Questa strada Qua Vediamo se Riesco Magari a Collegarla Ad esempio Così E magari Così Ok In modo da fare Diciamo Un'unione Con le varie strade Perfetto Qua abbiamo Il Terminale Qua abbiamo Ovviamente Il deposito In caso Dell'aeroporto E ovviamente Tutto assieme All'aeroporto Quindi Vediamo un attimino Di mettere Un aeroporto Anche a calazzo Come detto Niente battutine Ragazzi Che già vi sento Per cui Mettiamo Magari Un aeroporto Qua E vado a Prendere Beh Qua vado a Prendere Una bella Zona Effettivamente Qua vado a Prendere Una bella Zona Residenziale Ci costa 949 Proviamoci Dai Sono curioso Di vedere Gli aeroporti Come detto Io esploro Il gioco Con voi Per la prima Volta Quindi Sono Sono Veramente Curioso Abbiamo Il Douglas DC3 Fantastico Aereo Mamma mia Capacità 8 Passeggeri 963k Direi Di Acquistarlo Però Prima Di fare Ciuo Direi Di andare A mettere Una linea Aerea Che ovviamente Mi deve Andare Da Calazzo Fino a Madonna Che giro Sta a Fino a Qua Perfetto Ma che Diavolo Di giro Fa è vero Che è un aereo Capito Però fa il giro Dell'universo Vabbè Perfetto Ragazzi Allora Ho fatto Trasporto Aereo Calazzo Chiusanico Quindi la Prima linea Aerea Della nostra Mappa Quindi del Nostro Mondo Direi di Prendere Assolutamente Un Douglas DC3 Lo Acquistiamo Perfetto E gli andiamo A dare Ovviamente La linea Aerea Mamma mia Sono curiosissimo Di vedere Il nostro Aereo Che esce Dall'hangar Eccolo qua Veivolo 1 Mamma mia Gran bella Bestia Era Che spettacolo Che spettacolo Allora Facciamo andare avanti Un po' più Velocemente Bello Scintillante Guardate come Sbrillucica Il sole Mamma mia In fase di decollo Al momento 0 su 8 Ovviamente i passeggeri Adesso impiegheranno Un pochetto A Insomma Conoscere La nostra Nuova linea Era Lui ovviamente Va Al terminal Al momento Non c'è ancora nessuno Però ci ha dato Un achievement Primo Aereo mobile Arrivato Beh si Ovviamente E' appena partito E ci costerà Un bel po' Quindi spero Che le genti Insomma Imparino Che c'è un aeroporto A loro disposizione Ed ecco che Arriva la fase del decollo Ecco qua che è decollato Il nostro Nuovo aereo Mamma mia Che spettacolo Però ragazzi Che spettacolo Abbiamo anche un nuovo Pullman Fantastico Da poter utilizzare Veramente figo Veramente Veramente Bello Però Una cosa Che dovrei Eventualmente Fare E indubbiamente Un trasporto Pullman Che possa portare Le persone Comunque In maniera più facile Al nostro aeroporto Perché penso Che un sistema Di Pullman Possa servire Allo scopo Abbiamo anche Il tram Addirittura Potrei anche provare Il tram Eventualmente Stazione tram Con più terminali Passeggeri Beh Una bella stazione tram Non sarebbe male Come idea Potrei anche Metterla Peraltro qua Che mi vado Già a beccare Un bel po' Di residenziale Poi gli vado A mettere Un po' Di fermatine Che mi vanno In giro Per tutta la città Proviamo il tram Ragazzi Come detto Io sto a fare prove Prove su prove Ragazzi Allora Mettiamo qua Il deposito tram Ovviamente Dovrò Upgradare Le strade Immagino Campagna stretta Strada super larga Strada larga Corsi autobus Questa è bella Via tramviaria Eccola qua Allora Possiamo mettere Questa Indubbiamente Facciamo un percorso Che diciamo Da qua Mi vada Innanzitutto All'aeroporto Ovviamente Ok E qua Abbiamo messo La nostra zona Beh io le farei Un po' Tutte le strade Con la via tramviare Che mi vado a fare La parte Diciamo Commerciale La parte Industriale Indubbiamente Ok Facciamola che arriva Che arriva fino a qua Dai Sì Io la parte Del centro La farei Comunque Tutta Ragazzi Upgraderei Tutta Con Il trasporto Del tram Così almeno Siamo tranquilli Che il nostro tram Può andare Diciamo così Ovunque Perché Sennò diventa Diventa Seriamente Seriamente Un problema Facciamogli fare anche Tutto il giro Dai che così Se deve fare il giro Almeno a calazzo Visto che non ci sono pullman Quanto meno C'ha i tram Insomma Che potrebbe essere Una cosa Effettivamente Non male Allora Quindi Vediamo di fare Una nuova linea Però devo fare Prima le Fermate Del tram Quindi Fermata bus tram Perfetto Allora Una fermata È già qua Quindi Che mi va In questo residenziale Ne potrei mettere Una qua Che mi prende Praticamente Tutta questa zona Credo ne basti Solo una Io provo E vediamo un attimino Ne mettiamo una qua Ne mettiamo una Nella parte Industriale E ne mettiamo una Ovviamente Qua all'aeroporto Anche se credo che Fosse già servita Ma per sicurezza La mettiamo Quindi andiamo a creare Una nuova Linea Perfetto Che mi partirà Da qua Mi andrà A prendere Ammazza quante finestre Che mi apre Allora sposta un attimo Quindi potrà andare Magari L'aeroporto Lo mettiamo come Fermata finale Andiamo qua Va bene Poi facciamo Questo giro qua Facciamo questo giro qua Facciamo l'aeroporto E torniamo Al Terminal E la chiamiamo Tram Calazzo Perfetto A Calazzo Abbiamo il tram Ragazzi Mamma mia Mettiamo Deposito Acquista tram 16 passeggeri Io starei Sui 16 passeggeri Assolutamente Così Per un po' Ce l'abbiamo E andiamo a dargli Tram Calazzo Vediamo il nostro tram Mamma mia Che spettacolo Ragazzi Che Spettacolo Il nostro Trammettino Guardalo qua Ovviamente Adesso i residenti Impiegheranno un po' A conoscere Diciamo Il nuovo servizio Però Quanto meno Li porta anche All'aeroporto Dovrebbe Diciamo Dovrebbe Tornargli utile Poi magari La stessa cosa La posso fare Qua a Chiusanico Dove abbiamo Tra l'altro No in realtà Allora qua abbiamo Già una fermata Del pullman Quindi Oltretutto Io potrei anche Fare una Bella Ah no Vabbè ma qua è vero La strada è chiusa Perché c'è solo Il deposito pullman Va bene Va bene Va bene Dai non è Non è un gran problema Intanto qua L'aeroporto ce l'abbiamo Poi ne possiamo mettere Un altro E andare a Servire Diciamo Tutte le altre Città Andiamo a prendere Questa E la andiamo a mettere Sulla Limini Cistelli Perfetto E questa è sempre Una tratta Molto Molto Trafficata Devo dire E quindi conviene Aumentarla Un attimino Anche il commerciale Qua è Bello richiesto Quindi facciamo Anche un'altra cosa Nella linea Limini Commerciale Che è questa Andiamo a prendere I veicoli Che sono questi due 8 su 8 E 8 su 8 Allora Andiamo al deposito A venderli entrambi Perfetto Compriamo due Di quelli nuovi Così almeno Siamo a posto Quindi Passeggero Andiamo a comprare Questo qua Va benissimo E gli diamo L'Ali Mini Commerciale E ne compriamo Anche un altro E gli diamo L'Ali Mini Commerciale Anche a lui Perfetto Perfetto Così ne abbiamo Due di quelli grossi Secondo me Decisamente Decisamente meglio Allora Qua facciamo Una Bus Chiusanico Aeroporto Perfetto Così questo qua Ce l'abbiamo E speriamo Che possa Effettivamente Servire Però Quasi quasi Aspettate un attimo Perché io Questa linea qua La aumenterei Anche La farei passare Un po' In tutta la città Così almeno Andiamo a servire Anche Diciamo Queste zone qua Ok Si a parte che Questa dovrebbe Già esserci Ok Questo è il centro Quindi ne mettiamo Magari una di qua Perfetto E magari ne mettiamo Una qua Anche All'estremità Ok Quindi La linea Questa qua Aggiungiamo anche Altre fermate Andiamo a mettere Qua 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 Perfetto Passa all'aeroporto E poi torna Al Terminal Ottimo Ottimo Così almeno Abbiamo anche Un trasporto Pullman In questa città Dunque Io il deposito Di pullman Però qua Non ce l'ho Per cui Vediamo di metterne Uno Allora Deposito Questo qua Perfetto Vediamo di girarlo Magari lo mettiamo Così Ottimo E qua Andiamo a prendere Anche qui Ovviamente Un pullman Di quelli Grossi E andiamo a dargli La linea Chiusanico Aeroporto Perfetto Così almeno Questo si farà Un attimino Tutto il suo giro Passando un po' Per tutta la città E vediamo Se così Potrà portare Un po' Di benefici Alla nostra Mappa E alla nostra Azienda Soprattutto Ok Qua E i treni Qua stanno Trasportando Tanto Tant'è che Questa produce 48 Ma Adesso i treni Portano veramente Un botto E ne portano 81 Addirittura Di petroglio Quindi mi sa che Due treni Sono persino Sprecati Pensavo di impiegare Di più a far fuori Tutto il petrolio Invece no Devo dire che Con due treni Svuotiamo Completamente La fabbrica Non ce la fa Produrre così Tanto Per cui Due treni Sono persino Sprecati Sono veramente Sprecati Adesso spero Veramente che qua Migliori un po' Anche la situazione Dell'aeroporto Però Va bene Direi che Abbiamo comunque Tante Linee attive Adesso il tram Al momento Ancora in rosso Come anche il trasporto aero Per chi impiega un po' E anche insomma Le linee nuove Che abbiamo Appena fatto Il solito Industriale Che anche quello Impiega un attimino A A decollare Diciamo così Però abbiamo un passeggero No? Due passeggeri All'aeroporto Finalmente Ragazzi Diciamo che Il nostro aeroporto Inizia A funzionare La gente Ha iniziato A conoscere Insomma La nostra La nostra azienda Di conseguenza Vuole volare Con i nostri aerei E la cosa Non può che farci piacere Allora qua abbiamo sempre Un botto Aliminici stelli E Strapiena sta lina Ragazzi Devo prendere un altro Pullman Cioè La lina Aliminici stelli È una roba Mostruosa Quindi fai Aliminici stelli Assolutamente Sì È una tratta Che ha Non so quanti Pullman Guardate qua Che roba Ne ha Veramente Una quantità Abnorme Metterei Quasi quasi Tutti quelli Nuovi Quindi Facciamo così Allora Tu torni e vendi Tu torni e vendi Ne tolgo un po' Ragazzi E metto tutti quelli Nuovi Perché è tanto inutile Questo ha già 25 anni Va indietro e vendi Questo ha 17 anni Va e vendi E facciamo un po' Di pulizia Di pullman vecchi E mettiamo tutti quelli Nuovi Tanto tra un po' Sono comunque Tutti quanti Da sostituire Quindi a sto punto Dotiamoci di pullman nuovi Che portano anche Molti molti più Passeggeri Per cui Acquistiamo Un po' Di questi Ne acquistiamo Almeno tre E li diamo Alla linea Aliminici stelli Compriamo anche un altro Vai Aliminici stelli Perfetto Perfetto Ok così almeno Abbiamo rinnovato Un po' La nostra flotta Pullman Abbiamo sei pullman Per la linea Aliminici stelli Che però portano Molti più passeggeri Perché ne portano 13 per volta Quindi con questi Dovremmo in teoria Farcela Aliminici Raffineria di petroglio Purtroppo No cos'è che Che problema c'hai qua Ah e sì Il treno è fermo E sì C'è ragione Perché qua sta aspettando Di caricare E ovviamente mi dà l'avviso Perché non gli arriva più Merce Ma qua quasi caricato tutto Qual deposito è arrivato Sì Per cui a sto punto Vendiamo un po' di Di vagoni ragazzi Perché è abbastanza inutile Avere un treno qua Se no quasi quasi Io vendo tutto Vendiamolo sto treno Perché per adesso Non mi serve Aspettiamo un attimino Che Diciamo Accumuliamo nuovamente Petroglio E dopodiché magari Eventualmente aggiungo Qualche carrozza A questo E cambio la locomotiva Gli metto la locomotiva Quella più Cazzuta Diciamo così Oh qua finalmente L'aereo Madonna 17 persone Porca miseria Tanta gente Che vuole Che vuole prendere I nostri aerei Io quasi quasi Compro anche un altro aereo Perché abbiamo Tanta gente E gli aereo Ovviamente impiegano Un bel po' di tempo Quindi Acquistiamolo ragazzi Dai acquistiamolo Facciamo il trasporto aereo Perché abbiamo già Un bel po' di persone qua Ne abbiamo 19 E comunque Questo qua ne porta Solo 8 per volta Quindi dobbiamo aumentare Il numero di aerei Perché se no Non gliela famo ragazzi Non ce la facciamo A trasportare tutti Ok il treno è ripartito Bene Ripartito a pieno carico Con 81 Unità di petrolio Ottima cosa Sì adesso Ti arriva tutto Non ti preoccupare Che mo Ti arriva tutto Va bene Però adesso La benzina qua Trasporto carburante Alimini Quanti veicoli ha Questi qua Che sono tutti Vetusti Questi veicoli Quindi Quindi Quasi quasi Io questi qua Li mando tutti A rottamare E ne vado a mettere Degli altri Quindi vai al deposito E vendi Vai al deposito E vendi Ok Questo ha venduto Perfetto Quindi torna al deposito E vendi Perché ho sbloccato Anche degli altri Veicoli Merci Che sicuramente Possono Aiutare Quindi Vediamo un attimino Come merci Abbiamo questo Che trasporta 11 unità Direi che ne acquistiamo Almeno 3 Perfetto Che tanto ce la facciamo E li assegniamo tutti Al trasporto carburante Ad alimini Così almeno Abbiamo un bel po' Di veicoli nuovi Che possono andare A trasportare carburante E peraltro Ne possono trasportare Molto molto di più Per cui ci faranno guadagnare Credo un bel po' Ho 1.077 di ricavo Quella del treno Quindi Fantastico Siamo aumentati Nuova 3.032 E 32 Devono aumentare un po' Il tram Andiamo a vedere Il nostro tram Come sta funzionando Il tram a calazzo A calazzo Come stai andando Uh dai No col tram inizia Vede Vede Sì vedete Ci sono 6 persone Che aspettano Il nostro tram A 3 persone su 16 Quindi per il momento Ragazzi Ce la facciamo Senza troppi problemi A trasportare Tutti i passeggeri Perché abbiamo Un po' Di personcina a bordo Guardatele qua Perfetto Perfetto Da che il nostro tram Vedete Iniziano a Riempirsi Le varie fermate Piano piano Ovviamente ci vuole Sempre un po' Di tempo Però Diciamo che Ce la stiamo facendo E anche il trasporto aereo Vedete Sì finalmente Ci sta iniziando A dare 301 Diciamo 301k Quindi 301.000 Dollari Per il trasporto aereo Quindi fantastico Abbiamo la Chiusanico Aeroporto Vediamo un attimino Anche questa L'ho appena fatta Però vedete che inizia Ad affollarsi Le varie fermate Dovrebbero iniziare Ad affollarsi Sì esatto Ed abbiamo 11 persone Ottimo Che veicoli ho io Ah ne ho solo uno Ok 13 su 13 Ah ok allora mi sa che Dobbiamo mettere già Un nuovo pullman Pensavo di no Invece Mi sa che Essendo una linea Abbastanza lunga Conviene prendere Un nuovo pullman Ok Che mi va a fare La chiusanico Aeroporto Perfetto Perfetto Ok così almeno Esatto Ce la facciamo a Trasportare un po' Più di persone Ehm Va bene ragazzi Allora Direi che La nostra Mappa sta andando bene Abbiamo collegato Le varie città Abbiamo le linee Adesso anche quella Del tram E la chiusanico aeroporto Dovrebbero iniziare A fruttare Quindi insomma Dare un po' Di soldarelli Però Devo dire che Ce la stiamo Ce la stiamo facendo Qua abbiamo il nostro Aereo Che è diciamo Quella più bella Ritorno a solo Tre passeggeri Ma piano piano Dovrebbero Aumentare sensibilmente Devo dire che Abbiamo anche già fatto Il trasporto aereo Adesso ovviamente Dovremmo collegare Le varie città Le altre città Anche con Insomma Con gli altri aeroporti Però piano piano Faremo tutto A me l'importante Essere inattivo Con i soldi Anche perché Al momento ragazzi Devo ridare Con un comprestito totale Che ho fatto fino adesso Di 18 milioni Quindi Non è poco Anzi un milioncino Anzi guarda Facciamo così 2 milioni Gli ho già ridati Così almeno Ne dobbiamo ridare 16 Ed è già un attimino Meno Che 18 Per cui Iniziamo Un pochetto A ripagare Di nostri debiti E poi ovviamente Man mano che andiamo avanti Continueremo A ripagare Il nostro Il nostro debito Quindi ragazzi Io direi che Posso concludere qua Questo non è un gameplay Dedicato a Transport Fever Mi raccomando Come sempre Ricordo di lasciare Un sacco Un sacco di like Condividete Commentate Iscrivete Il canale Se non siete iscritti Se vi va Seguite anche su Instagram Altra Adria Sotto In descrizione Detto questo Vi saluto Noi ci riusciamo Al prossimo gameplay Ciao belli